Si inseriscono nel vuoto interiore. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB, sorella mistica. Altissimo glorioso Signore, Dio creatore del tutto, dacci la perseveranza di procedere nell'analisi di noi stessi, a ciò che le nostre manchevolezze ci risultino non realtà di cui scandalizzarci, ma solo momenti della nostra interiorità, sui quali è opportuno riflettere per essere in continua veglia, in continua ricerca. Fa, oh Padre, che la mia esistenza si mostri quale realmente è, che io non mi costringa in uno schema dettatomi dal gregge comune, dalle regole di condotta di esso, perché quelle regole, quegli schemi, sono solo realtà che si inseriscono nel vuoto interiore che mi caratterizza in questo momento della mia evoluzione. Rendimi in grado di costituire un impianto ideativo il quale mi permetta di studiare, di sviscerare senza alcuna sofferenza le idee che inducono le azioni che svolgo, che manifesto in mezzo ai miei fratelli, nel piano di esistenza in cui essita la mia attuale consapevolezza. Se poi è necessaria la sofferenza a sostenere tale impianto, essa venga, ma ch'io la senta dolce, la senta balsamo, la senta nutrimento e giammai maledizione, giammai flaggello, giammai ingiustizia, oh Padre. Oh Altissimo Signore, Padre della conoscenza, emanazione della coscienza, manifestazione dell'amore assoluto, che non essendo umanamente concepibile mi resta oscuro, fa sì che io senta l'analisi di me stesso come un atto mistico, una manifestazione del mio amore verso te, a ciò che in ogni limitazione, in ogni errore, in ogni affanno, io vedo a te la tua misericordia, il tuo abbraccio, il tuo perdono, l'irrefrenabile ed incessante manifestarsi del tuo supremo volere. Amen. La vostra sorella mistica vi abbraccia e benedice nel nome di quella realtà che tutti ci unisce e che permette il miracolo che stiamo vivendo. Grazie Padre, grazie. Guida psichica. È importante sempre, oh figli, che queste occasioni siano vissute nel giusto senso. È necessario pertanto che si trovi la matrice di queste esperienze nel sentire, nella coscienza, quella coscienza che non è così lontana come i nostri discorsi potrebbero far credere, ma che si manifesta ogni qualvolta la mente dell'individuo, prende un impulso che riceve dal corpo astrale. Perché è importante sempre cercare, al di là dell'esperienza, i fotogrammi che la inducono. A ciò vi esortava la sorella mistica pochi minuti or sono e naturalmente io non posso che affiancarmi a questo auspicio che è insieme monito e spinta.